Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo le cose un po' più serie. Nel primo video AWS Imbruttito Edition, ho parlato di AWS così alla bona, alla famono gli altri, però adesso dobbiamo, come dire, usare termini più specifici, perché nel primo video era così una serie di argomentazioni o delle considerazioni, degli esempi che cercavano di, come dire, dare un input, no? Un, ok, vediamo di che si tratta, però adesso, se hai visto il primo video, dobbiamo progredire e fare dei progressi, quindi usare dei termini più appropriati che si possono poi effettivamente comunicare agli altri. Quindi andremo a vedere le regioni, le zone, poi andremo a vedere appunto il Transit Gateway, il VPC Peering, il Virtual Private Gateway, perché il Transit Gateway è una soluzione fantastica per grandi aziende, ma se una piccola azienda quindi ha un solo VPC, per esempio, il Transit Gateway è troppo costoso, quindi ci possano essere altre soluzioni. E poi il NAT Gateway, per esempio, un'altra cosa che andremo a vedere, a che cosa serve, dove si applica e perché si applica, chiaramente. Quindi questo video, in sostanza, parlerà di questo. Ecco, quindi mettetevi comodi e cerchiamo di fare il punto della situazione. Le regioni si possono raggruppare, come in questo caso, per area geografica. Per esempio, Nord America, Sud America, Europa, Asia, Medio Oriente e Africa e, ovviamente, Australia e Nuova Zelanda. E queste sono le regioni. Ora, queste regioni, a sua volta, si suddividono in zone. La regione Europa, per esempio, prendiamo l'Irlanda. Si suddivide in tre zone. Per esempio, EU-West-1A, EU-West-1B, EU-West-1C. Ogni zona è progettata per essere indipendente dalle altre zone della stessa regione. Ogni zona ha energia, raffreddamento e connettività di rete indipendenti, il che significa che se una zona ha un problema, le altre zone nella stessa regione non ne saranno influenzate. EWS raccomanda di distribuire le risorse come istanze AC2 su più zone di disponibilità, per aumentare la possibilità di resilienza delle applicazioni. Quando scegli una regione per i tuoi servizi EWS, puoi utilizzare più zone di disponibilità all'interno di quella regione per costruire applicazioni robuste e scalabili. Ad esempio, se hai bisogno di creare applicazioni web, puoi posizionare i tuoi server, le istanze AC2, in diverse zone di disponibilità della stessa regione, per garantire che siano sempre disponibili anche in caso di guasti. Per esempio, potresti posizionare una macchina per prendiamo l'Europa, per esempio, per rimanere in Irlanda, puoi installare, puoi configurare le tue applicazioni WS nella zona EU West 1A e un'altra zona che è appunto EU West 1B, per esempio, così che se 1A, per qualche sfortunato caso, ha dei problemi, 1B non ne verrà influenzato. E questo è per quanto riguarda la resilienza. Adesso andiamo a vedere un attimo invece alcune soluzioni. Partiamo dal quello che abbiamo già visto nel video precedente, che è appunto il Transit Gateway. Come vedi qui abbiamo i nostri tre VPC, la nostra istanza AC2 è collegata al nostro IGW, quindi l'Internet Gateway, e appunto può andare, può comunicare con Internet e Internet può ricevere i dati. Come vedi nella nostra istanza, per esempio, quella di sinistra, test VPC1, è collegata alla nostra istanza all'Internet Gateway, quindi IGW o IGW, se vogliamo rimanere su termini inglesi, il che significa che la nostra istanza può andare su Internet, ovviamente, e da Internet io posso accedere all'istanza, per esempio prendo un server web a porta 22, eccetera, eccetera. E in più, sopra abbiamo il nostro Transit Gateway, che ci permette appunto di far comunicare tutte e tre i VPC, che nel nostro caso sono tutte e tre in zone diverse, quindi non comunicherebbero tra di loro, e ci permette di collegare, per esempio, la nostra infrastruttura aziendale al Transit Gateway e a sua volta noi possiamo, come dire, collegarsi alle macchine, quindi alle istanze, utilizzandole in locale, come se fossero locali. Questa soluzione è adatta se, per esempio, hai molti VPC, quindi non tre, tanto per intendersi, ma, quando dico molti, diverse decine. Poi abbiamo questo, invece, VPC Peering. Ecco, in questa soluzione, che è quella, diciamo, più economica, tu puoi creare il VPC Peering. Adesso, partendo da sinistra e andando verso destra, la istanza VPC 1, quindi quella alla sinistra, può comunicare con il VPC 2, che è quello centrale. Il VPC 2, a sua volta, può comunicare sia con il VPC 1, sia con il VPC 3. Quindi, diciamo che l'istanza centrale può comunicare con entrambe le due istanze, ma qui abbiamo un problema. L'istanza di sinistra, distanza di destra e ovviamente viceversa, non possono comunicare tra di loro. Quindi, questa soluzione è sì, forse meno costosa, ma ha dei piccolissimi problemi che, come ti ho già spiegato un secondo fa, in questo caso, le due istanze all'estremità, quindi 1 e 3, non comunicheranno. Poi, abbiamo un'altra soluzione. Abbiamo il VGW, cioè il Virtual Gateway. Ecco, in questa soluzione, invece, che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra azienda, che è collegata con il Firewall, che a sua volta crea una VPN con, appunto, il Virtual Gateway e ci permetterà di comunicare con la nostra istanza. Ora, come vedi, questa è sì tu, quindi questa istanza è collegata all'Internet Gateway, che non è obbligatorio averlo se vogliamo accedere come VPN alla nostra istanza. Però, chiaramente, è raccomandato se vuoi che la tua istanza possa comunicare con Internet, perché altrimenti non comunicherà con Internet. Poi, abbiamo il NAT Gateway. Allora, qui la cosa è un po' più, come dire, apparentemente complicata. Abbiamo il nostro Transit Gateway, e va bene, che si collega alla nostra infrastruttura, quindi alla nostra azienda via VPN, eccetera. Allora, in questo disegno, invece, vediamo che il VPC di sinistra c'è scritto Private Subnet, quindi Subnet Privata, mentre negli altri due c'è scritto Public Subnet. Ora, che cosa cambia? Come vedi, nel VPC centrale c'è quel simbolino che sta a significare NAT Gateway. Quindi, il VPC di sinistra è collegato al NAT Gateway, che si trova nel VPC centrale, che a sua volta ti interfaccerà con Internet. Ma la differenza sostanziale dove sta? Sta che il VPC di sinistra potrà contattare Internet, ma tu non potrai, per esempio, abilitare un web server o un SSH o qualsiasi altro servizio al quale poter accedere da Internet. Quindi, in un certo senso, diciamo che Internet nel VPC di sinistra è a senso unico, cioè vai, ma non puoi accedere a nessun servizio, eventualmente, se tu lo esponi, verso Internet. Questo è il NAT Gateway. Adesso facciamo un piccolo recap su dove si usano queste tre configurazioni, quindi NAT Gateway, VPC Peering e Transit Gateway. Il NAT Gateway, come ho già detto, viene utilizzato in un VPC per consentire alle risorse in una subnet privata, come le istanze di situ, di accedere ad Internet per scaricare aggiornamenti o comunicare con servizi esterni. La subnet privata non ha accesso diretto a Internet per motivi di sicurezza. Il NAT Gateway permette alle risorse di uscire su Internet senza sporre direttamente i loro indirizzi IP privati. Mentre il VPC Peering è utilizzato per connettere due VPC nella stessa regione o in regioni diverse, in modo che possono comunicare tra loro. Serve per condividere risorse tra VPC separati, come database o servizi interni, senza passare attraverso Internet, garantendo una comunicazione sicura e a bassa latenza. E infine il Transit Gateway. È usato per collegare più VPC e reti on-premises, centralizzando la gestione del traffico di rete. È utile quando hai una rete complessa con molti VPC e connessioni VPN, perché semplifica la gestione del routing e riduce il numero di connessioni punto punto necessarie. Questi componenti aiutano a costruire reti scalabili e sicure su AWS.